Non ha mai preso una pillola ed ha mangiato pane e cipolla. Questi segreti dell'Henry Seer che hanno permesso alla signora Giuseppa Lamarca di festeggiare 102 anni. Nonna Pina, nata il 20 febbraio 1911 a Raffadali, si è sposata con un uomo di Porto Empedocle. Da questo amore sono nati tre figli, Anna, Filippo e Salvatore. Lungo gli anni è diventata nonna di dieci nipoti, che gli hanno dato la soddisfazione di diventare bisnonna di ben sedici pronipoti. La soddisfazione di nonna Pina è anche quella di diventare per cinque volte trisavola. La 102enne è ospite presso il ricovero per anziani del boccone del povero di Favara da quanto aveva 89 anni. Si era presentata spontaneamente a bordo di un DAX davanti alla porta delle suore. Mai e poi mai avrebbe potuto immaginare di poter spegnere 102 canteline proprio all'interno della struttura. Lei ha mai lavorato? Una vita. Che lavoro ha fatto? Che lavoro ha fatto? Che lavoro ha fatto? In campagna? In campagna. Con le striche, favi, a menzare, a menzare, bambi subite. Striche, con le striche. Travalli di campagna, dicelo. Travalli di campagna, diciamo. È come ogni festa di compleanno che si rispetti e non potevano mancare palloncini e torta. Tra la gioia di figli e nipoti che hanno potuto cantare tutti insieme, tanti auguri a te.